L'Italia comincia progressivamente a riaprire alla luce delle vaccinazioni e del calo dei contagi. Il decreto con le nuove norme entrerà in vigore nella prossima settimana. L'intervento più importante è quello sulla scuola. Si dimezza la durata della DAD che passa da 10 a 5 giorni in tutte le scuole di ogni ordine e grado e rimarrà solo per i non vaccinati, ad eccezione della fascia 0-6 anni nella quale non è autorizzata la vaccinazione. Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia tutti i bambini rimarranno a casa quando in classe ci sono 5 o più casi di positività e non più alla presenza di un caso come avviene oggi. Alle elementari, medie e superiori invece la didattica a distanza scatterà solo per i non vaccinati, alle primarie dal quinto caso in su, alle secondarie dal secondo. Chi resta in classe e non ha più di 6 anni dovrà utilizzare le mascherine FFP2, mentre in dini e infanzia solo i docenti. Le fasce di colore rimarranno ma anche in quelle regioni che dovessero finire in rosso non ci saranno più di vieti per chi ha completato il ciclo vaccinale. Le restrizioni rimarranno invece per i no-vax. E ancora, per chi ha completato il ciclo vaccinale e anche per chi si è contagiato o è guarito dopo essersi vaccinato, il passa validità senza necessità di ulteriori dosi di richiamo, dunque illimitata. Per chi invece si è contagiato dopo la prima dose, il certificato varrà a 6 mesi. Alberghi. Chi è vaccinato e guarito da meno di 6 mesi potrà accedervi con il pass base. Chi invece ha un certificato di guarigione o vaccinale da più di 6 mesi dovrà mostrare l'esito negativo di un tampone effettuato 48 ore prima se è antigenico o 72 se è molecolare. Tampone che non è obbligatorio se si è guariti dopo aver completato il ciclo di vaccinazione. Fino al 10 febbraio è obbligatorio indossare la mascherina all'aperto e al chiuso. Dall'11 febbraio sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti i luoghi chiusi. Nei cinema e nei teatri va indossata sempre. Su treni, aere e navi e su tutti i mezzi del trasporto pubblico locale è obbligatorio indossare le FFP2. I contatti stretti dei positivi con terza dose da meno di 120 giorni non fanno quarantena, ma devono indossare per 10 giorni la FFP2 e rispettare l'autosorveglianza. Grazie! Grazie!